allora ho apparecchiato qui una cosa un po' particolare questa è una scheda audio usb della universal audio non è la cosa come si chiama la volt 276 va bene a cui ho fatto entrare non due microfoni ma due cavetti normalissimi che escono dalla mia polo twin dai canali 3 e 4 qui ho fatto una configurazione un po' particolare per fare in modo che uscisse il segnale da un q q e ok ho usato il q e3 della apollo twin o il q e2 in questo caso sì ok e questo mi consente di mandare un segnale analogico a una scheda audio esterna ora io questa scheda la posso tenere completamente scollegata dal clock che utilizzerò per fare una connessione da remoto per esempio no una connessione da remoto è quella è quella roba che tu fai con il tuo sistema magari devi lavorare a 96 kHz per dire perché si tratta di un videogioco ma dall'altra parte hai il tuo cliente che si vuole collegare con zoom piuttosto che con session link o con altra roba e quindi tu farei una registrazione a 96 kHz ma loro si collegano a 48 kHz al massimo o addirittura a 40 400 a quel punto se tu ti colleghi con i microfoni principali della tua scheda audio che magari sta lavorando a 96 kHz oppure a 40 400 e loro sono 48 insomma se il clock è diverso la sostanza è quella e allora sentirai degli effetti un po' particolari ora ti faccio un esempio di che cos'è la differenza di clock allora tanto per cominciare tu devi prendere i dispositivi audio per capire su windows è un'altra cosa però è una cosa molto simile alla fine hai le periferiche audio su macintosh lo trovi in configurazione media audio sulla sinistra di questo pannello che puoi trovare dentro alle utilità dentro applicazioni applicazioni utilità poi trovi questo piccolo questa pianola mini pianola ecco lì sopra trovi tutte le tue periferiche collegate a sinistra e a destra c'è il pannello con le le varie i vari dettagli ok quindi io per esempio ho una usb audio 1 che non so esattamente cosa sia anche questa usb audio 2 che non non so che roba sia c'è il del questo è il mio schermo c'è la volto 276 che è quella lì che è collegata con una frequenza di 48 kHz 16 bit la portiamo a ok l'ho portata a 24 bit va bene è un po alto adesso il livello l'abbasso un poco perché altrimenti è alto qui chiaramente se io stacco un canale tu sentirai che un canale se n'è andato e adesso ritorna ok è analogico quindi tutto così io potrei lavorare 40 400 48 in questo momento sto lavorando 48 perché ha un video e lavorerà 48 ma prova a fare una sessione a 40 400 perché ho fatto questo perché tutto quello che io sento in cuffia lo devi sentire anche tu a prescindere dal clock non voglio che si blocchi l'audio perché io cambio il clock l'audio deve continuare a fluire da questa scheda audio può essere la mia scheda audio che cambia per un attimo si si ferma perché io gli cambio il valore del clock adesso vado a prendere la mia console questa qui la console dell'apollo dove ci sono tutti i miei segnali qe3 qe2 eccetera eccetera che sono gli ingressi le uscite dove sto mandando i suoni ma come vedi sta lavorando a 48 kHz qua sotto non si vede forse ma c'è scritto 48 perfetto allora io apro logic adesso che è collegato a questa scheda audio appena apri il software di logic oppure che ne so reaper o il software che stai usando se è collegato alla scheda audio quando tu cambi il clock di sistema nel tuo nella tua do cambia anche sulla scheda audio perché naturalmente sono legati a doppio filo ecco prendiamo questo per esempio potrei dirgli di lavorare 44 100 anziché 48 faccio una scelta adesso provo non hai sentito per un po create non hai sentito per un po perché io sono andato a prendere a cambiare i settaggi della scheda e quindi la scheda si è riavviata ed è andata a lavorare 44 100 l'ho lavorando a questo command 2 dammi per favore l'ingresso giusto in questo canale io sono sul b line one che è questa ok quindi adesso qui posso entrare con un segnale perfetto c'è la possibilità di togliere il come cavolo si chiama aspetta un attimo devo fare una cosa perché altrimenti mi rompe le balle come si dice n'è vero pa 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 sync red to punch self software monitoring auto input per father metering sei da qualche parte io lo so master volume metronome click lo devo vedere qua perché sicuramente parte sapevo io che tu partivi bastardo taci ok perfetto adesso io sono qui che registro il mio suono a 44 100 ma da te io sto arrivando a 48 kg ma tu non senti la differenza adesso io sono qui che registro il mio suono a 44 100 ok va bene se io cambio e vado a 48 la mia scheda si muterà per un attimo andrà a 48 a si è riaccesa adesso è a 48 sto facendo la pallina pazza però io posso continuare a registrare e tu mi continui a sentire esattamente come prima sono a 48 kHz e a te non te ne frega assolutamente niente perché io lavoro a 48 kHz naturalmente io non ti sto facendo sentire il suono perché devo farlo uscire da qualche parte ok non stereo out ma usiamo un'altra uscita per esempio dammi la linea virtual 1 e 2 no voglio l'1 e 2 di questo vediamo un po se ci esce come prima sono a 48 kHz e a te non te ne frega assolutamente niente perché io lavoro a 48 ok adesso io sono qui che registro il mio suono a 44 100 hai sentito la differenza quando ho registrato a 44 100 si sentiva bene ma a 48 no perché è cambiata cambia la frequenza cioè va più veloce quello che ho registrato più lento aumenti la velocità registro che sembra paperino potrei anche alzarla e portare a qualcos'altro certo ci ha messo un po eccolo qua 44 100 chiaramente mi ha cambiato anche le lunghezze adesso io sono qui che registro il mio suono a 44 100 sono a 48 kHz e a te non senti che è diventato così perché ho 44 100 quello lì è più veloce e l'ho rallentato e quindi fa ok quindi questo è l'effetto che potresti avere sentito anche quando fai una connessione dal vivo per esempio no se io vado in una connessione dal vivo come questa source connect faccio create session clip storyboard ok perfetto io sono in questo momento collegato con la ux 2 del mio catena ti importa vedi che il segnale entra io posso entrare e adesso faccio una connessione con un altro software per esempio questo è chrome ok uso canary che è un altro chi è che usa canary facciamo che usa questo account qui perfetto benissimo faccio command v session link eccoti qua adesso mi chiederà se può usare le periferiche no benissimo allora sono col virtual 1 qua sopra e posso fare un test loop sono a 44 100 te lo faccio rivedere che sono a 44 100 qui 44 100 questo sta gestendo la scheda audio test loop si tolco after the beep salve sono qui che sto registrando a 44 100 come si sente ma si sente bene no allora io posso anche mettere pippo pippo ed ecco che entro adesso mi connetto e lo sposto lo teniamo qua si vede si vede qua sotto questo lo metto qua guarda qui così ok perfetto quindi questo sono io che entro qui e pippo in questo momento si trova qui naturalmente ci sarà un bel ritorno adesso vediamo un po connetti esatto chiudo questo e tu adesso dovresti sentirmi non dovresti sentirmi da nessun altra parte che non sia questo questo dovrebbe in teoria lavorare a 48 ma in realtà sto lavorando a 44 100 quindi adesso facciamo un passaggio e portiamolo al volo a 48 kilohertz voglio vedere sto simulando una situazione che ha avuto un mio amico con windows kilohertz e tu non senti nessuna differenza questo perché i sistemi di nuova generazione evidentemente hanno qualcosa che però si sente meglio sì sì perché prima faceva probabilmente un'interpolazione per portare dentro il suono adesso invece no e quindi si sente decisamente meglio però non c'è l'effetto paperino non c'è più io ero qui che stavo cercando di simulare la cosa che era successa a lui che è una cosa molto simile il tuo software prende il controllo della scheda audio e quindi in teoria tu dovresti avere un suono come dire non più adeguato e in realtà i vari software si interpolano in modo che il suono sia anche se a 48 poi si interfacci bene faceva una sorta di cosa analogica in realtà non fa una cosa analogica perché fa un'interpolazione digitale quindi il suono diventa un pochettino più schifoso avrai sentito che prima c'era una specie di sul suono faceva solamente questa cosa però il suono si sentiva non puoi certo mandarlo registrato così diciamo che l'ideale quando fai questi tipi di connessione è lavorare in toto a 48 kilohertz quindi guarda il tuo software come sta lavorando fallo lavorare a 48 kilohertz e lavora con tutto il tuo sistema tarandolo a 48 kilohertz perché quando ti connetti a questi sistemi questi sistemi si aspettano normalmente di lavorare a 48 kilohertz è chiaro che si appoggiano sulle tue schede audio quindi se le tue schede audio sono tarate a 4400 lavoreranno a 4400 ma dall'altra parte c'è anche lì una cosa digitale quindi voglio dire l'AUX 2 qui come sta andando l'AUX 1 com'è a 4400 il 2 no tutto il 48 tutto il 48 vedi l'ho messo tutto quanto a 48 kilohertz insomma fatti un giro sul tuo computer tara tutto a 48 kilohertz e non dovresti avere problemi se senti delle cose strane c'ho la cpu che sta andando a manetto mac mini che sta facendo tutta sta roba fa la sua bella fatica se senti delle cose strane potrebbero essere date dal fatto che appunto hai il clock che non è ben cloccato questo sistema i driver dell'Apollo e i nuovi sistemi Chrome probabilmente fanno questa cosa interpolano non ti so dire esattamente che cosa sia quale sia la ragione e la magia per cui succede tutta questa cosa ma questa cosa succede quindi caro Enrico vendi la moto comprati un Mac e un Apollo e questa cosa non ti succederà più va bene grazie ciao